buongiorno a tutti siamo al sesto piano di questo stabile anni 60 in viale certosa volevo presentarvi questo appartamento di cui magari avete già visto le le foto e volevo farvi notare tramite questo video che le foto rispecchiano assolutamente l'immobile infatti da questa parte abbiamo la sala a vista dove sono state messe due belle colonne di così giusto per per arredare molto belle e da quella parte c'è un balcone un balcone che guarda su su via la certosa in tutto in tutto i piani sono 8 quella è l'anticamera disimpegno che guardiamo dopo però andiamo da questa parte dove abbiamo la zona cucina come vedete è abitabile nella grande poi ha redatta anche con gusto e dall'altra parte come vedete abbiamo un altro balcone l'esposizione ottima in quanto e dunque sud ovest lato lato sala mentre da questa parte nord ovest nord est scusate e quindi sole tutto il giorno chiaramente quando c'è il sole qui abbiamo un ripostiglio che come tutti i ripostigli un po stracolmo di roba però comunque bello capiente con con della scaffalatura addirittura ritorniamo qui nella zona nella zona giorno dove poi ci avviamo verso disimpegno con un bel bagno grande con vasca un altro bagnetto piccolino piccolino ma mica tanto con box doccia poi da questa parte abbiamo una bella camera arrivata tra l'altro con molto gusto e la camera da sempre sul balcone che abbiamo visto prima nella cucina ecco qui c'è tanto spazio anche perché questa è una bella cabina armadio molto grande e poi la camera da letto matrimoniale è stata messa tra l'altro un una tapezzeria con il blocco con tutti i continenti che dire se avete intenzione di visitarlo potete tranquillamente contattarmi i miei recapiti li trovate tutti e vi auguro un buona giornata